mamma aiutami ho avuto un gravissimo incidente sono in caserma dai carabinieri e mi servono 1200 euro per pagare l'avvocato rischio conseguenze penali di fronte a una mail del genere qualsiasi genitore farebbe di tutto per aiutare il figlio in questo caso però la destinataria del messaggio di posta elettronica una signora di erba di 54 anni ha capito che si trattava di un imbroglio ed è riuscita a far denunciare il truffatore si tratta di un 32enne torinese già noto alle forze dell'ordine per episodi simili che questa volta ha scelto la vittima sbagliata la donna infatti ha una figlia ma che al momento della mail si trovava all'estero e di conseguenza non poteva aver avuto un incidente in italia la signora ha comunque verificato che la figlia stesse bene e non fosse stata coinvolta in alcun incidente dopodiché si è presentata dai carabinieri di erba per denunciare l'accaduto i militari hanno iniziato un'indagine lampo che nel giro di poco tempo grazie anche a liban lasciato dal truffatore per farsi accreditare i soldi ha permesso di individuare il presunto responsabile che ora dovrà rispondere di truffa telematica per un raggiro sventato però se ne registra un altro riuscito giovedì una pensionata comasca residente in via ortelli ha ricevuto la visita di sedicenti tecnici del gas che una volta in casa le hanno rubato gioielli e un orologio i carabinieri invitano per ogni minimo sospetto tutti i cittadini a contattare il numero di pronto intervento il 112 meglio una segnalazione in più a vuoto dicono dall'arma che una truffa portata a termine